Allora Allora Ragazzuoli Allora Eccoci qua Mi vedete? Mi sentite? Allora prima cosa Ditemi se mi sentite E mi vedete Perché c'è da dire tanto Allora Allora Eccoci qua Sì mi sentono Mi sentono questi pentiti Ed eccoci qua ragazzi Come la stacco da qua dentro Apriciattina la finestra Buonasera a tutti quanti gente Ok me lo allargo così Questo me lo metto Il mouse Sì Me lo metto qui Esattamente Eccoci qua ragazzi Perdonate l'attesa Ma forse Lo avete inteso Io non sono a casa mia Io oggi sono a Milano per lavoro E cosa ho fatto? Ho detto ma che faccio? Non faccio la live Su Dragon Ball Spark in Zero 13 minuti di gameplay Ma qua Ma forse stiamo scherzando Ma siamo forse impazzuti totali? E quindi mi sono detto E' arrivato seriamente il momento Di Trovare un modo Trovare un modo Il modo quale è stato Sono andato In una sala LAN Sborsiamo E mi sono prenotato Due tre ore Di Registrazione Cioè di streaming In una sala LAN Ho cacciato i sordi Non ancora alla fine Penso E quindi eccoci qua Eccoci qua E ragazzi Alle ore 15 precise In premessa benvenuti a tutti Perché ho fatto questa premessa Però benvenuti a tutti Grazie per essere qua Oggi Probabilmente questo è il momento Più importante Di sempre Per Dragon Ball Spark in Zero E per tutti i videogiochi di Dragon Ball Un grande Assurdo Ritorno Di una serie storica Che In questo momento Si presenterà Si presuppone Al suo meglio Alle ore 15 precise Insieme Faremo la reaction A quello che sarà Probabilmente Il momento in cui Verrà svelato di tutto Sul gioco Probabilmente vedremo Il gameplay completo Oh 13 minuti ragazzi Sono tanti Sono veramente tanti E ci aspettiamo Robbe pazzesche Adesso vi spiego per bene In primis Grazie a tutti quelli Che si stanno connettendo adesso Siamo prima 600 Poi si salta Quasi 800 spettatori Grazie mille A tutti voi E Sono contento Di essere qua oggi Stamattina ho preso Un volo per Milano Quindi siamo da poco Scesi dall'aereo Ci siamo incontrati Con un po' Di persone Che non vedevo da tempo Però mi sono detto Questa live Voglio farla E quindi eccomi qua Oggi a fare la reaction Con voi Ore 15 E l'orario preciso Vi dico un attimino Io oggi Cosa mi aspetto Da questa live streaming Voglio solo verificare Un attimo Yes Tutto settato Funziona grande Grazie Ci siamo Ok ragazzi Quindi come vi dicevo C'è un'altra finestra Ma forse l'ho chiusa Da qualche parte Ma la riapro La riapro Eccola qua Io sono utente Windows Mi hanno messo Un Mac in mano Non sto capendo Niente Diciamo E quindi No 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 Non devo contenere Le urla Anzi l'opposto Io sono In un bunker Insonorizzato Quindi posso urlare Quanto voglio Non so O le altre volte Era di notte Quindi diciamo Non posso urlare Non posso urlare Adesso Sono in un bunker Tutto tappezzato Sottoterra No detto così Pare che Oh Wolf Grazie mille Benvenuto tra i Saiyan Leggendari Che ti ridi Sono in un bunker Sottoterra Detto così Pare che Mi hanno Mi hanno rinchiuso No sono qui Non contro la mia volontà Ma anzi E quindi qua ragazzi In pratica Oggi Posso urlare Come mi pare E piace Si fa la storia Veramente ragazzi Quindi Sì ci tocca aspettare ancora Un po' Ancora un attimino 20 minuti E vi dico Esatto Pick Coming Come qualcuno ha scritto Anche nella chat Lì ufficiale E mi aspetto veramente Oh Il razziatore Con l'arsenale Ciao Franci Ti ricordi Sono Spagno Ce l'hai presente Spagno? Si Ciao Penso di noi In realtà Grazie mille Per i 5 euro Un bazzotissimo Ti ho messo il cuoricino Ah è nuova sta cosa Nuova funzione di YouTube E in primis Vi dico un po' Le mie aspettative Per questo trailer Vi dico poi Cosa penso Fino ad ora di quello visto Di Spark in Zero E vi dico Se avremo Secondo me O meno Una data d'uscita Allora Franci Faccio flip the table Ribatto tutto E non è la mia postazione Non potrei Quindi stavo dicendo Allora Partiamo Da un presupposto Sono veramente contento Che abbiano deciso Oggi di fare questa live Non era inaspettata Anzi Io in tutta sincerità Me l'aspettavo Devo dire cose come stanno Magari mi sistemo meglio La facecam Josef De Nostradamus Oddio Non è Nostradamus No stavo meglio prima Ma non mi sono messo a fare Mezzo casì Mannaggia La miseria Mannaggia Eccoci qua Tipo più così Ho già fatto Un casì Sapevo Ma perché Ma chi mai Ti tocca Perché Che è arrivato Un alert Buona mano Buona sì È perché Questo è quando Non c'hai la tua Postazione Oh maronna mi Ma si sposta Guardala Se me la No no Non dite che tocco Perché Detto così Un po' Siamo mille spettatori E inizia fra 20 minuti Pensate un po' Molto peggio di prima Frenge Parecchio peggio Allora Dovresti andare Un po' più Così come stanno Sposta Sì va bene Non la toccare più Più o meno Va bene Sì 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 Va bene così E French dreams Ma la smetti Quindi oggi siamo Con un'attrezzatura Non mia Ma Siamo qua Appunto Nella Nella Sala LAN E Sono contento Che siamo riusciti A trovare Una soluzione Perché oggi Qua a Milano Ragazzi Non avrei potuto Fare alcuno streaming Perché Ma come quello Che scrive nella chat C'è uno che dice Mi saluti Joseph Non nella mia chat Nella chat Nella chat dello showcase Mi saluti Joseph Grande Però adesso Tutti quanti Quindi come vi dicevo C'è il rischio Oggi Che saltava tutto E Invece So contento Perché Siamo riusciti A trovare la soluzione Eh no 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 E Che vi volevo dire Allora Avevo ricevuto Un messaggio Da Mirko E Gianfranco Vi volete unire E il problema Ragazzi È che io Non ho Discord Settato E quanto Non ho settato Niente Cioè Non c'ho Il Discord Ti daranno La data D'uscita Ne parliamo Tra poco E E di conseguenza Quello che vi stavo Dicendo Uuuu Due euro Da Seb Joseph Adottati Please Forse voleva dire Adottami Mmm Solo se sei Maggiorene Non mi permetto Di Festeggia Il tuo primo Super In un live streaming Grazie mille Bravo A Schilock Io vi ricordo Che sono attivi Abbonamenti A Superchat Ragazzi Chi lo vuole fare Lo fa Mi supporta E Soprattutto Vuol dire che Può aiutare Anche economicamente Il fatto che oggi Cioè Non sto a casa mia Ho affittato appunto Per due tre ore La Come dire La postazione Qui a Milano Non è necessario Chi vuole farlo Solo deve sentire Proprio dal cuore E deve avere La possibilità Di farlo Ma al di là di questo Che è una cosa secondaria Oggi ci tenevo Troppo Veramente Alla grande Ad essere qua Spaccam Speriamo Oh Francesco Pastore Benvenuto Tra i Saiyan Grazie Grazie mille Francesco Grazie E Ci tenevo Dovevo esserci Perché 13 minuti Di gameplay Sono una cosa Che non succedono spesso Oh grazie mille Cri Un euro Cuoricino Al volo Lo riesco a mettere Sì grazie E Di conseguenza Siamo qua Allora Quello che mi aspetto In primis Questo è C'è scritto Chiaramente Come vedete Gameplay Showcase Un gameplay Showcase Cosa vuol dire Che Ovviamente Mi fai del gameplay Mi sembra Banale e giusto Ma Finalmente Potremmo vedere Per la prima volta L'HOD Che cos'è L'HOD È tutto È tutto quello Che c'è a schermo Del gioco Come ad esempio La vita I tasti relativi Alle supreme Dei personaggi I menu Il menu Quando metti in pausa Qualcuno che qua Scrive Joseph Magneto Tutteral E quindi Praticamente C'è tutto Il Necessario Vero Quando tu giochi E noi ci aspettiamo Oggi in un gameplay trailer Da 13 minuti Una roba del genere Deve esserci Mi aspetto anche Di vedere Non solo I personaggi A livello di gameplay Che combattono Grazie mille Raffaele Di Meo Benvenuto tra i Saiyan Grazie mille bro Che poi tra l'altro Qualcuno era già Super Saiyan Quindi non era nuovo Prima E mi aspetto Di vedere Nuovi personaggi Ma non solo Quelli visti Nelle Nelle immagini Del V-Jump Cioè Che era Hit Broly Full Power Kale Che nello shorts Ho chiamato Kefla E così via Mi aspetto Di vedere Altre cose Sì ragazzi Anch'io sono un po' in ansia Perché Spero non deluda Esattamente Questo trailer Per durare 13 minuti Io vi dico Secondo me Mostrerà E' un gameplay showcase Quindi Però ci sono buone probabilità Di vedere anche un po' di storia Quindi mi aspetto Anche un piccolo focus Di un paio di minuti Sulla storia Quindi per farci capire Sai Iniziamo dal primo Dragon Ball Fino a finire a Super Non so se aspettarmi qualcosa Di GT In sincerità Oh grazie mille cri Un altro euro L'audio fa rumori elettrici French Dreams Puoi verificare In qualche modo Vai verifico Tutto subito Vai verifica E non vi preoccup C'è un'interferenza Non vi preoccupate Risolviamo E' il mio telefono Lo metto in modalità aereo il mio telefono Mi dite se adesso Aspetta Fra poco Però si sente Un piccolo Se no muove Un attimo Sopra A verificare Che cos'è Il computer Eh può essere Il computer Ragazzi potrebbe essere Il computer che è acceso E' una stanza piccola Chiusa Quindi il computer Di sottofondo Fa Quindi potreste sentirlo Eh vai a vedere L'audio è un po' graffiato Sì French Dreams E' mandato in esplorazione A verificare Effettivamente Ciao Fratam Grandissimi ragazzi Sarà il cavo Non lo so Io qua ho fatto settare Tutto per bene Non funzionavano le cuffie Ma ora funziona Come non si sente più Giovi Mi sentite? Giovi Sai un di alto rango Grazie mille Ragazzi mi sentite ancora? Come non si sente più? Mi state trollando Ah non si sente Il suono di sottofondo Io pensavo Non mi sentivate più a me Ah Ok A parte quindi Grazie mille Giovi Ok no no Pensavo che non si sentiva più La mia voce Ho detto Ma non mi Che mi state a dire Fra un quarto d'ora partiamo Preferite che il microfono Lo metto più vicino O più lontano? Come lo sentite meglio il microfono? Perché il microfono Ce l'ho con l'asta Lo metto più lontano Così è lontano Invece così è vicino Come lo preferite? Vi dico solo una cosa importante Grazie mille Valerix Per l'euro Considerate una cosa Che se io urlerò Non vi conviene che Io abbia il microfono vicino Ve lo vi avverto Eh ve l'ho detta Vicino Lontano Allora lo metto Un po' Leggermente vicino Non troppo Così se urlo Poi lo distanzio un attimino E che stavo dicendo Si sente? Si E beh In realtà mi sembra Che si senta bene Forse Gracchia un po' Dovresti rinunare il game Prova prova Uno due tre Peppinielo sulla traccia Eh ragazzi ma Allora Gracchia Perché non è il mio solito microfono Si sente bene C'è un piccolo rumorino di sottofondo Piccolissimo Quasi non si sente Perché il microfono Non è quello solito mio Questo comunque è buono È uno dei microfoni Forse il primo Il Blue Yeti Il famoso Blue Yeti Uno dei primi Che io ho utilizzato Quando sono partito su YouTube Ve lo ricordate Chi mi segue da tanto Sto microfono Mamma mia che ricordi 15 minuti 15 minuti Ragazzi Incomincio un po' Ma tutti che nella chat Scrivono Ciao Joseph Nella chat Quella americana Vabbè comunque Sono preso Veramente bene Eh ragazzi Che comunque Si Joseph Ti senti Vabbè L'importante è che si sente Siamo 1200 spettatori E non vedo l'ora Non vedo l'ora ragazzi Vi dico Fugano Sei moreno Vi dico Che tra le varie cose Mi rimetto meglio La chat a schermo Eccola qua Così la vedo per bene Perfetto Stiamo moreno La data La data d'uscita Allora C'è il rischio Io ve lo dico Che questa data d'uscita Ancora Non Non ci sia Non ci sarà O temo Che potrebbe ancora Non esserci Perché Se il gioco esce Cioè novembre Dice Tra ottobre Novembre Fino a Gennaio Febbraio 2025 È prestino Per avere una data D'uscita Quindi ragazzi Non lo possiamo Ancora sapere Mi auguro Che ci sarà Non è No Rischio 2026 Assolutamente No Ma assolutamente No ragazzi Cioè mi sembra Fuori di testa Cioè 2026 È un gioco Ragazzi Quelli che escono 2026 Sono giochi Tipo The Last of Us Non è che esce The Last of Us 2026 Per dire Sono quei giochi Che hanno bisogno Di un lavoro Pazzesco A livello di storia Di trama Dragon Ball La storia ce l'ha già Quindi su quella Al massimo Modificano qualche cosa Ma poi Si parte spediti Agosto 2024 Non penso Perché hai ritirato il messaggio Non era sbagliato Quindi Boh Ciao bicetto E Clevis un euro Grazie mille Fra Cuore di Cino pure per te Sono riuscito a chi parla Estate non penso Esce metà 2025 Mmm Ah Estate 2025 No ragazzi Estate 2025 no Io vi dico Io spero E credo Verso ottobre e novembre Mi apro Assolutamente Alla possibilità Di Gennaio Febbraio 2025 Metà 2025 Mi sembra seriamente Troppo oltre Cioè mi pare proprio Esagerato Anche settembre Però ci vedo più ottobre e novembre Vediamo un attimino Io me lo auguro Me lo auguro Veramente tanto E lo spero Con tutto il mio cuoricino Con tutto il mio Corazon Come il Corazon Di 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 low Non so se avete visto One Piece One Piece E quindi Vediamo un po' ragazzi Mi aspetto Mi aspetto Veramente tanto Qua ve lo dico eh Se fanno la cacata Ve lo dico proprio in maniera pulita e sincera Se fanno la cacata Mi incazzo Mi incazzo Veramente come una bestia Perché Ormai Se tu mi fai La premiere qua su youtube Mancano dieci minuti Non ve ne andate Non ve ne andate Anzi venite Perché stiamo per iniziare Ma se mi presenti La premiere su youtube Mi organizzi l'evento Mi fai capire Che stai per presentare Una cosa pesante Oh cavolo Mi stavo perdendo la chat Forse un qualche donation Spero di no Nel caso La riacchiappa a volo Non vi preoccupate Vediamo Vediamo No sono arrivati forse Da prima Puoi cliccare su attività Degli spettatori Dove lo vedo A fianco ai nazi Eh E ti escono Tutte le cose Ah Wow frangione Tu stai avanti FranchiDreams Mi svela delle cose Pazzesche Ah ma il razziatore Con l'arsenale All'inizio avevano donato Pure 2 euro Me l'ero perso Grazie mille Vabbè grazie veramente Fra E quindi come vi stavo dicendo Mi aspetto Qualcosa Di Stra B Li Ante Powayu Noi siamo qua Sì fai un po' la regia Quello che devi fare Ecco qua Posso fare una cosa Che questo me lo sposto Più di qua Esattamente Vai vai Così sto bene È bene così Sì 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 Mi dice la connessione Mi dice tutto Poi Definisci strabiliante Allora Definisci strabiliante No no Avete ragione No no Perché se tu mi dici che Eh Avete ragione Eh Che ti rivi Ok Se la ride Frenchy Dreams Allora strabiliante Non ti accapo da Frenchy Dreams A terra Secondo te faranno Cosa faranno Di animato Dopo Daima Eh troppo presto Per dirlo Purtroppo Troppo Troppo presto Già con Daima Qua essendo venuto A manca Toriyama Ragazzi Anzi questa live Sapete che vi dico Io la dedico A Toriyama Un piccolo tributo Banale Semplice Però È una cosa Che mi avete fatto Venire in mente voi Vi ringrazio E ci sta Quindi darò Del mio meglio Ovviamente Siamo quasi Sì 1700 1800 No Minuto di silenzio No ragazzi L'abbiamo già fatto Massimo rispetto Per il maestro Che veramente Ci ha fatto sognare E vi dico Che Avete visto Forse un po' Tutti il video Che io ho fatto Su Toriyama È stato un video Molto sentito Ero molto preso a male E vi ho spiegato Anche il perché Siamo un po' Tutti presi a male Non voglio Trattare troppo Questo argomento Perché ne abbiamo già parlato Può pare che uno Ci lucra sopra E allora Non mi va Grazie Francesco Per l'euro Ne abbiamo già parlato Abbastanza Allora pare Uno lo rimette Sempre in mezzo Per fare visualizzazioni Basta Quello che ho detto È abbastanza E non voglio più Riaprire l'argomento Per evitare di Scadere poi Anche in cose banali E sarebbe un peccato Toriyama Per quello che ha fatto Per tutti Noi non se lo merita Quindi Ritornando a noi Strabiliante Cosa mi aspetto Di strabiliante Mi aspetto di vedere Ma proprio parliamo Un po' più facile Un po' più semplice Da fan No da tecnici Del nulla Mi aspetto di vedere Tanti personaggi Tante trasformazioni Tutto l'HOD A schermo Una selezione Dei personaggi Non mi farebbe schifo Anzi Tutt'altro Non credo Avremo Come dire Troppo della modalità Storia Se non quasi Forse nulla Vedremo E poi Mi aspetto Belle supreme Tante belle Trasformazioni Cioè da questo gameplay trailer Mi aspetto Proprio le cafonate Perché Questo Sparking Zero Grazie mille Per Davidoff Per i 0,99 Per l'euro Il cuoricino Lo riesco a mettere Sì Lo posso mettere Il mi piace Il cuoricino Quante cose ti fanno fa Vabbè comunque Non lo so È Sbirulina come cosa E stavo dicendo Vegeta Ultra Ego Vegeta Ultra Ego Sincero Ragazzi Lo escludo Ma come dopo Roblox Ma come Roblox Ma No Roblox Non ci gioco da parecchio Roblox Manca pochi Quanto manca Sette minuti Why you Sette minuti solo Sette vedrai No quella era Cinque minuti Quella cosa là Arrivano dopo i suoni Non l'ho capito perché Penso anche a voi in chat E Io ho ansia Eh lo so ragazzi L'ansia Raging Blast 3 Entro il 2026 No ragazzi Per ora non penso proprio Raging Blast Non Non dico che lo escludo Ma non Non penso Francesco ancora 2 euro Grazie mille ragazzi Per supportare questa live Io vi ricordo Che non sono a casa mia Per questo magari La facecam è ancora Un po' sfocatella Non c'è la mia videocamera Però comunque Ho trovato questa soluzione In sala LAN E Se non sbaglio Com'è che si chiama Lo dico a fine live Se no Magari Trovo 50 persone qua fuori Quindi Lo dico alla fine della live Quindi L'ansia si fa A sentire Mancano 6 minuti Ragazzi 6 minuti Stiamo iniziando Un po' a sbarellare E quindi Vi stavo dicendo Mi aspetto proprio Le trasformazioni Supreme Voglio belle Le cafonate Un po' d'acqua Dove sta qua dietro È la mia questa Che è tua Quindi Non facciamo pubblicità All'acqua E qui Ma stanno arrivando Un botto di suoni Ah sono Sulle donazioni di prima Ok grazie Un po' in ritardo Rispetto alla chat Boh Non ho capito Perché Devi dare il tempo A OBS Di processarla La cosa Probabile Quanto ti aspetti Che costerà Allora ragazzi Oh lol Grandissimo Grazie mille Se non fanno Vegeta Super Saiyan 3 Lo farò io Grande bro Lui già si porta avanti Per Spark in 0 Oh bro Mi raccomando Per Spark in 0 Voglio delle mod Assurde Mi fa troppo piacere Che già ti sei lanciato A dirlo E grazie Grazie mille Perché A parte che mi hai mandato Tante mod Mi hai supportato Una F E ora qua pure in live Mi fa piacere E non vedo l'ora Delle mod Che ci saranno Guido Martorelli Ha regalato Un abbonamento A Joseph Gamer Ma come ha regalato Un abbonamento a me No no Ha regalato un abbonamento Ma sotto ti esce A chi l'ha regalato Ah E pensavo l'avesse regalato a me Ecco Sali Oh cavolo Aspetta Fammi ringraziare Ciccio Penuccio Per 2 euro Saluti mio fratello Gabriele Un grande saluto a lui Bro Carano 99 cents Grazie mille Sali su Sali su Sali su Salgo su Sali su Salgo su Allora Lui ha regalato A Jake Ha regalato Un abbonamento E ti dice Anche di che livello Ha regalato Grandissimo Non so dove però Dove me lo dici Ha regalato Un abbonamento Non me lo dici Vabbè Comunque Ragazzi 4 Ma 4 minuti Ma che siamo Impazzi di totali Comunque si ragazzi Il prezzo dei giochi Ormai E tra i 70 e gli 80 euro Prima Mi ricordo I bei tempi In cui era 60 Poi si è saliti A 65 Poi si è saliti A 70 E mo siamo Tra i 70 E gli 80 euro Ma che vi devo dire Purtroppo Iniziano ad avere Iniziano ad avere il loro costo Ste cose Che cavolo vi devo dire Ragazzi Un po' mi dispiace Perché Non so perché È aperta questa finestra Voglio solo capire Una cosa Ragazzi Voglio solo capire Una cosuccia Se poi l'audio Si sentirà Mi auguro di sì Perché Non vorrei Problemi dopo Vabbè Perché qua Vedete Non c'è l'audio Al momento Le 32 ore Più lunghe Di sempre Oh Ivan Joseph Sei un grande Grazie mille Bro per i due euro Grazie per chi mi sta supportando Come vi dicevo Io non sono a casa Ho proprio Fittato Pagando Una Una sala lan Sono stati molto Accoglienti Mi hanno trattato Benissimo Da subito Mi fa molto Molto piacere Molto professionali Però sai Quando sei a casa Tu c'hai le tue comodità C'hai la tua registrazione Il tuo setup Io ho settato tutto In 20 minuti Però c'era già abbastanza Tutto preparato Però Sono contento di essere qua C'era i dischi Voglio che non ci fossi live Che stiamo a scherzare Ma Ma di che Ma che Scusa E quindi I giochi Costeranno sempre 70-80 euro Recuperando quello che dicevo prima Ragazzi Siamo più di 2000 E non è manco iniziato 3 minuti 3 minuti Ma veramente Io volevo Stare pure con Tube e Blazzi Però ragazzi Io qua Su questi computer Ho installato tutto velocemente Non ce l'ho discord Non c'ho discord Come devo fare No perché Ha scritto Gianfranco prima Ha detto Vi volete connettere Però io mi sono sceso Giù nel bunker Non piega la linea No no Non funziona Come devo fare No mi dispiace Se pensano che Poi non li vuole più bene Sì Vabbò Non di così qualcuno ci crede No perché Poi su Su 2500 Che state live C'è sempre quello Che poi ci crede Quindi Oh Axelord 2.49 Grazie mille Ma oggi scopriremo La data di uscita del gioco Questa è una cosa Di cui parlavamo poco fa Non lo sappiamo Ce lo auguriamo Allora French Dreams Ricordami che appena inizia Io parto con questo Capito Ah ok È perché È più tardi Capi ce lo piazziamo Hai portato la penna USB Sì ce l'ho La penna USB Ce l'ho la penna USB French Dreams Ma con chi pensi di avere a che fare Scusa Allora io mi faccio La mezzanotta di sonno Buonanotte Ragazzuoli Quanto manca? Due minuti Inizia il conto alla rovescia Che poi in realtà Quando parte C'è il countdown Lo so Quindi Come faccio io le live Eh quindi Fai sempre upack Praticamente Quindi inizia Ma poi c'è un altro minuto Perché non Non mi fa giocare online Su giochi come Dragon Ball Come connessione Utilizzo hotspot Può essere che la connessione Da hotspot Non sia molto stabile Di solito sono stabili Pure quelle da hotspot Però capita Pure che non lo sono Ma solo io sto in hype Bro io sto Sto soffrendo Sto sudando Uuu Agatino Fichera Benvenuto tra i Saiyan Grazie mille bro Per l'abbonamento Grazie a chi mi sta supportando Oggi E grazie a tutti voi Alla fin fine Per essere qua Siamo 2600 Ragazzi spero oggi Riusciremo a superare insieme Il picco massimo Dell'altra volta Era Più di 5000 persone Alla presentazione Che era Ottobre Novembre Di Sparkinzi Non mi ricordo manco Speriamo qua Di riuscire Oggi a superare Se non ci superiamo Non importa Ci stiamo divertendo E benvenga Oh Unica cosa importante Che vi chiedo Lasciate un mi piace E il mi piace qua Ho fittato questo Mi so organizzato tutto Ho dovuto settare quello Quell'altro Stiamo scaurando Inizia a fare caldo Senti caldo Possiamo accendere questo Non c'è lo spazio Per la presa Non c'è lo spazio Per la presa Non c'è lo spazio Per la presa Se vuoi provare Stai scaurando? Eh Bumma French Dreams Ma non fai sceme French Dreams Ma io proprio non lo so Sentite l'audio? Ho velocizzato pure Va così ci mettiamo subito in pari Ho più ansia di questo trailer Che per latino Ah domani c'è la verifica? Ma non c'è alcun countdown Il countdown c'è? Dai vai Dai vai Ci siamo E ci siamo ragazzuoli Allora Questo trailer Ormai l'ho imparato A memoria Lo riconosco di già Questo È il È il Praticamente L'audio non si sente? Lo sentite? Questo è il trailer Che noi già conosciamo Questo lo sappiamo A memoria Quindi Tranquilli Beh verifica se l'audio È un po' troppo alto Questo trailer Noi già lo conosciamo E credo sia di presentazione Non vi preoccupate Tranquilli È velocizzato Passo un po' l'audio Di questo Sentimo che sta 4,9 Sentimo Un po' troppo alto Non vi preoccupate L'ho abbassato Vediamo Ho messo a meno 14 No no ragazzi Non è più 2x A un certo punto Vedete Velocità normale Gameplay showcase Non è proprio parlato Qui è il producer Di Dragon Ball Spark in Zero Sono davvero Mi fa piacere Che voi siete qui oggi Abbiamo annunciato Spark in Zero A dicembre Durante i Game Awards Me lo ricordo E il trailer Che avete visto Proviene da quell'annuncio Ok quindi ci ha chiarito Ma già lo sapevamo Poi al Dragon Ball Game Battle Hour Abbiamo visto il trailer Focusato su Goku e Vegeta Quello che noi abbiamo Già analizzato insieme E date un'occhiata Su Youtube Se vi siete persi Questo video Va bene Va bene Vediamo un po' Mi dicono che l'audio È basso French Reigns Va bene Vabbè Vediamo un po' Dice Grazie per questa opportunità Questo è un sequel È un sequel Del tanto atteso Budokai Tenkaichi Nel West Vedete come lo specificano Adesso Lo specificano Un botto Perché hanno paura Che la gente Non si renda conto Che 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 Budokai Tenkaichi Quindi stiamo per vedere Un gameplay Con meccaniche Uniche Quindi stanno rivelando Tutto adesso Quindi preparatevi Tuffiamoci In questo epico confronto Tra due rivali Goku e Vegeta Waiu Questa è l'entrata È l'entrata Dei personaggi I will defeat you Ti sconfiggerò E questa è l'entrata Di Goku e Ballonzola Ma mi volete far gasare? Bellissime le pose Questa è l'entrata Quella che fa Ecco L'HUD Ci siamo Bellissimo L'HUD Molto minimale Bello pulito Allora Notiamo il combattimento Ma ho quante cose da vedere Poi le analizziamo tutte Guarda il gameplay Com'è Dinamico Ma che siamo Abbazzuti Ma guarda Quanto è bella La carica dell'aura Guarda come si sposta Proprio come Budokai Tenkaichi Gli ha fatto lo stamina break Lo butta via E poi tiene premuto E carica La camia mia Si carica Con R2 Ha fatto boost Bellissimo Come Come i Budokai I Tenkaichi Fra Abiti distrutti Per Vegeta Guardate pure l'HUD L'HUD In alto Adesso Si toglie pure l'HUD Quando fa la Supre Non è la Supremo Quella è una skill normale Scende verso il basso Verso l'alto Come i Budokai Tenkaichi Maru è bellissimo Bellissimo Guarda come si carica Vedete Non era il Goku Ultraistinto Questo che c'era Nelle immagini Non era il Goku Io ve l'avevo detto Non mi state a sentire Maronna mia Ma questa è la Suprema Final Flash Maru Mazzuto totale Ma che spettacolo Ma questi mi vogliono Farsi venire il colcolone No che torni indietro Super Saiyan Blue E ovviamente Non mi aspettavo Niente di diverso Ma la cam... Cioè aveva... Era in posa? Bellissimo R2 boost Lo insegue E che è un colpo di meteoriti Tipo Maru gli ha dato un pugno Fra L'ha resettato Bellissimo E quelle... Quel 5 che c'ha Veget E quel 4 che c'ha Goku Cos'è? Di nuovo? Bello che scop... Bellissimo Ha lanciato via il colpo Lui diventa Super Saiyan Blue Vedete si toglie tutto l'HUD Bellissimo Quando si trasforma Che altro fa? Ma guarda come si muove Questo l'ha preso un po' da Xenoverse La ghicchia un attimino Non so perché Non è una cosa di connessione Forse è proprio il gameplay Ragazzi comunque È frenetico Veloce Spettacolare Guarda quanti colpi Molti... Ma bellissimo Ma che fanno tutti questi Dei trasporti Ma guarda la carica Ragazzi le cariche Sono... Cioè Devastanti Guarda che bello sto Goku Ma guarda Quando hai al massimo Ma ha attivato una sorta di modalità boost R2 Questa è la Kamehameha Che abbiamo visto nei trailer Quindi era Una... Una cosa in game Una suprema Kamehameha Scontro delle aure Ma non ho perduto la voce Fra Maronami Guarda che preme... Ma devi premere il triangolo Al momento giusto Più che puoi Secondo me ragazzi Al momento giusto E hanno cambiato l'animazione Vince Goku Ha fatto anche la mossa E ha vinto così Ragazzi Ma... Ma... Ma io mo mi metto a piangere Questo È il gioco che io desideravo Questo è un sequel genuino Che preserva l'essenza Della serie Così popolare Budokete in Kaiji È un gioco dinamico In 3D Che permette Un'esperienza Vera di Dragon Ball Oltre ai combattimenti A distanza ravvicinata Ci sono il Dragon Dash Che permette Un movimento Molto veloce Per... Andare incontro All'avversario Poi c'è la Impactation Action Che permette Esatto Lo scontro dei Key Blast Ragazzi Lo scontro dei Key Blast È devastante È bellissimo Veramente Spettacolare Da vedere Questo è quello Che io volevo Questo è quello Che noi Fan di Dragon Ball Ci meritiamo Finalmente Questo è quello Che vogliamo Dinamismo Intensità di gameplay Battaglie Che sono state create In questo gioco Abbiamo parlato Fino ad ora Di elementi Che Che noi Consideriamo Importanti In questa serie E quindi Abbiamo opportunità Di andare un po' Più nel dettaglio Quindi ci fanno vedere Altre cose Quindi questo gioco Mantiene I capisaldi Dei Budokete Inkaichi E quindi Scontri ad alta velocità Molto Sempre migliori Ok Vediamo Quattro Dettagli Mostrati Verranno Uno dei primi Cambiamenti È il boost Guarda i movimenti Guarda questi movimenti A destra e sinistra Per scansare i colpi Ti permettono Di fare dei piccoli dash Con un bottone Guarda Guarda che bello Come si muove così Ma poi lo È dinamico Ok Si aprono possibilità Di movimento Quindi tu puoi fare il dash E puoi attaccare subito Ok Variazioni Di combattimento Il tuo stile Poi Ah puoi lanciare I keyblast Mentre ti muovi Ottimo Un po' come in Xenoverse 2 pure No mi pare Poi c'è lo skill count Va bene Che puoi fare per tutto Il combattimento E il revenge count Quindi è proprio Guarda guarda Ti puoi difendere Guarda Goku Bam È come se ti rompesse La combo In qualche modo Bellissimo Quindi lo lanci Pro e lo stunni E poi c'è la super perception Ah questo è quello Per deviare i colpi Questa ragazzi È bellissima Guarda Forse devi acchiappare Il momento giusto In cui ti colpisce il colpo E lo lanci via Queste sono cose ottime Per fermare L'attacco nemico No ragazzi Lo split screen Magari lo mostrano dopo Attenzione Veramente Bello da vedere C'è il vanishing assault Il vanishing assault Eh questo è spettacolare Che ti teletrasporti Bam Abiti poi distrutti Al massimo eh Mi pare che gli abiti di Vegeta Si siano distrutti Più volte Poi C'è quello anche A medio raggio E crediamo che le feature Di questo gioco Rendano Il gioco più strategico Assolutamente Sì lo fanno Un po' di domande Riguardo I fan Di Budokete Inkaichi Ah penso che abbiamo Risposto a un po' Dalle domande Di Budokete Inkaichi Ok Ok Siamo felici Di aver attratto L'interesse anche Di nuovi fan Che non erano già Fan di Budokete Inkaichi Ma solo di Dragon Ball Ok Vogliamo enfatizzare Oggi i personaggi Ma ancora Abbiamo dimostrato Tanti personaggi Che già conoscevamo Inclusi i personaggi Di Dragon Ball Super Ok Un sacco di personaggi Nel roster Ma mo ci fanno Vedere il trailer Adesso un altro trailer Pure Ma Aspetta fammi capire Un attimo Nuovo trailer Pure nuovo trailer Ma ci stiate Un po' viziando Non mi direi Che è lo stesso Mi raccomando Brava Skilol Nuovo trailer C'è Trunks Maronna mi Bellissimo Power vs Speed E' il trailer Che noi già conoscevamo Speed Dispo ovviamente Ma Vi fanno casare Guarda Toppo Com'è veloce Wow Fran Ma Toppo Non si vede Quasi Questa è la mo Attacco a cupola Infuocato Che era Kakunza Questi sono Tutti i personaggi Del trailer Ma le combo Ma le combo Sono quelle Di Budoket In KC3 Ah eccolo Eccolo Toppo Eh ragazzi Era Dispo Lo sapete Dai Sono troppo preso Dal momento Wow bellissimo Ragazzi Le combo che fa Questo è Giz Bello Bello E questa è la Suprema Che fa insieme a Barter Quindi lui c'ha una Suprema Insieme a Barter Proprio parte da lui Bellissimi insieme Ma che spettacolo Mamma mia Ma non mi fra Ma questi sono matti No io non faccio Ma che Ma è cambiata la musica Li ha fatti vedere insieme Tra l'altro Ma che Ma che fu L'ha spedita via Con Laura Mamma mia Ma che stanno Ma che fanno Ma che cosa era quella cosa Ma io che stavano facendo Ci stavano scontrando Ah boh E chi ha paitto Ah boh Fra Incontrollabile Non si mantiene Io per stasera ho perso la voce Chi vincerà La La grande forza Oh La velocità Senza tempo Vabbè Ci siamo capiti Guarda è ruggito Gigante Il salto temporale Data Waiu Vedi Si riempiono Si riempiono Come vi avevo detto No Wishlist Now E poi ci presentano Sandland E quindi Vabbè Ti rifanno il recap Che Dragon Ball E vabbè Dai Su tutti i giro il recap Di tutto quello che c'è Un po' Per tutti i giochi Ragazzi Io E poi ancora il season pass Ci abbiamo già fatto le serie Su tutto qua praticamente Ragazzi Oh Xenoverse 2 No Questa roadmap Noi la già Conoscevamo Ragazzi Ma io Cioè Posso riprendere fiato Un attimo Per favore Perché sono un attimo Stornato Allora Annulla Rivediamolo Cioè no Rivediamolo Perché sarebbe un po' Too much Però ragazzi Mo Ditemi voi una cosa No Cioè per Rintenderci Ma Siamo soddisfatti Allora La data non c'è Non mi è piaciuto Che la data non c'è Forse la pecca La pecca Di questa Cosa Ma come 26 aprile Ma dove l'avete Ma che siete matti Oh Dove l'avete visto Vaglio 26 aprile 26 aprile cosa Ma ragazzi 26 aprile era Sandland Oh No no Non vi confondete No ragazzi Ve lo faccio rivedere Occhio Occhio ai dettagli Occhio ai dettagli Mo vi faccio rivedere tutto Era Sandland Vi spiego Vi spiego un attimo Non vi preoccupate Agostino 5000 Uno spettacolo Non potendo giocarci Aspetto solo che esce E lo porti Ti sosterrò al massimo Se un grande Grazie mille Agostino Anzi Agatino Perdonami Eh purtroppo Non c'ho gli occhiali Vi faccio vedere bene Non vi preoccupate Non era Sparking Zero Dove cavolo sta Qual era Managgia la miseria Ragazzi Eccolo qua Il 26 aprile Non vi dovete confondere Il 26 aprile È il gioco Sandland Oh managgia la miseria Torna indietro Eccolo qua Il 26 aprile È Sandland Non è Sparking Zero Sandland è un altro gioco Differente Ti dice che è dal creatore Di Dragon Ball Cioè ti fa capire Chiaramente che Sono due giochi diversi Quindi Questo gioco verrà Rilasciato Il 26 aprile Allora La data Non è stata presentata Mi dispiace Ma Per quello che ci hanno mostrato oggi Che non è troppo Non è troppo Ci hanno fatto vedere Molto super Vedete un altro gioco Ci hanno fatto vedere Molto super Ma Comunque ragazzi Secondo me ci siamo Si nota Chiaramente Oh ma ce la fa Non ce la fa A caricare Si nota in maniera Piuttosto chiara ragazzi Niente Non ce la fa Si nota in maniera Piuttosto chiara Esatto Si nota in maniera Piuttosto chiara ragazzi Che questo è un gioco Molto improntato Per chi ama Super Ma Anche Credo Per chi ama Dragon Ball Z Questa per esempio Lo vedete questo saltello Che ha fatto Goku Questo ragazzi Palesemente È il saltello Che fa Durante il film Di Dragon Ball Super Brawly Quando c'è il ghiacciaio Si vedeva pure nei trailer Che ormai quel trailer È diventato storico Saltella E poi si lancia in battaglio Con la posa iconica Gohan Ancora una volta Non si è visto Ormai sto Gohan Ragazzi Cioè non ce lo vogliono Proprio far vedere Non lo so per quale motivo Continua Non farcelo vedere È un grande peccato Però ragazzi Oggi Comunque In questi 13 minuti Siamo stati soddisfatti Abbiamo visto Il vero Gameplay Di GT Non abbiamo visto niente Ancora una volta Niente quindi E ancora una volta Niente della prima serie Mi dispiace Non sono disperato Per niente Per il semplice motivo Che sono molto Fiducioso Il gioco C'è scritto chiaramente Che questo gameplay Proviene Da qualcosa Che è ancora In sviluppo Di co-op Locale Non si è parlato Io credo Che queste Informazioni Arriveranno Successivamente Quindi Non vi preoccupate Queste informazioni Arriveranno dopo Però ragazzi Io vi faccio vedere Cioè guardate Aspetta un attimo Guardate questo Final Flash Per farvi capire Ma questo che fa? Bellissimo Vedete poi Laura Gialla Del Final Flash Tutto attorno Ragazzi È uno spettacolo Grazie Giuseppe De Luca Per tutto No l'ho tolta io La registrazione di quello Appena concluso L'ho tolto Quindi ragazzi Per me Siamo su livelli Veramente Altissimi La data d'uscita È l'unica vera cosa Che oggi Mi è dispiaciuto Non vedere Per il resto Io oggi mi aspettavo Questo Non mi aspettavo Cosa in più Non mi aspettavo Tanto la storia Come vi dicevo Mi aspettavo Un vero primo Gameplay Di uno scontro Completo E noi l'abbiamo Eccolo qua È questo ragazzi Questo è lo scontro Completo di gameplay Che noi volevamo vedere Vi faccio notare Al di là bellissimo Quando lui fa la suprema C'è l'HUD In alto Vedete C'è praticamente Ci sono le barre di energia Che sono queste Questa è la barra di chi? Credo Devo vedere Un momento in cui si caricano Analizziamo un po' Questi dettagli Perché è importante Questa cosa ragazzi Analizziamo un attimo Questa roba Ma è una volta Che non sei soddisfatto Ragazzi Ma qua avete visto Che v'hanno fatto vedere Oh V'hanno rilasciato Un gameplay Completo Per la prima volta Allora Questo era un gameplay trailer Ti hanno fatto vedere Un gameplay completo Dall'inizio Alla fine Di uno scontro intero Con Supreme Trasformazioni Scontri delle aure Tutte le varie meccaniche Il dash Il contrattacco Ti hanno fatto vedere Le cariche Ti hanno fatto vedere Alla fine anche un trailer Completo Con tanti personaggi Tante trasformazioni E supreme pure lì C'è Ragazzi ma Che cosa vi dovevano far vedere Oggi Per C'è Se siete rimasti delusi Mi dispiace Ma Dovete anche vedere le cose belle Non solo le cose brutte Guarda qua Questo è un gameplay completo Cioè Non è che ti hanno fatto vedere Due cazzatelle Questo è un gameplay Di uno scontro completo Ti fanno vedere Tutti i teletrasporti C'è Tutto quello Che di gameplay Ti potevano far vedere Oggi Ve l'hanno fatto vedere Essere delusi Da 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 questo gameplay Ma Guardate Goku Aspetta Ma che ha fatto Perché gli scende Gli scende L'aura Capiamo Ha fatto un boost Un boost Nel corso E' un potenziamento E' una modalità Zenkai Cos'è Vediamo un attimo Che fa Appena si carica Ok viene spedito via Cos'è Così si sta caricando No Ma è come Budokai Zenkai C'è proprio Non so se avete capito Ragazzi Se avete giocato Budokai Zenkai Se avete capito Che è successo Guardate la sua aura Si carica Queste sono le prime barre E poi c'è tutta l'altra barra Che sblocca la Suprema Come in Budokai Zenkai Mo no Io voglio vedere Tutti quelli che dicevano Questo Eh Vabbè ragazzi Lo so che si capiva Però mille cose E' la barra blu Per fare la Suprema Io voglio capire Quelli che dicevano Questo non è Budokai Zenkai Ci sono delle novità Ovviamente Ma non possono fare Lo stesso identico gioco Di Di vent'anni fa Devono aggiungere delle cose O cambiarne qualcuna Però le basi La struttura Che noi volevamo Appunto Come dice qualcuno Frate è un sequel Appunto La struttura c'è E rimane Vedete Rimane Con il boost attivo Che mano a mano Scende E questa è la Suprema E puoi premere Vedi te la fanno vedere Pure per bene C'hai tutto il tempo Di attivarti Il boost R2 Come nei Budokai Zenkai Tu là Per fare il boost Per potenziare la mossa Dovevi fare Triangolo su Quadrato su Quadrato Quello e quell'altro Invece qua R2 boost E tutta la Suprema Te la godi al massimo Mentre la fa Ecco qua La scaglia Lui si fa la sua Il pentito E c'è lo scontro Ma non capisco Lui quando deve Premere Triangolo Quella è la barriera Di Vegito Vero Quella pure di Xenoverse 2 Quando preme Ma deve premere Quanto più lontano Arriva Non so Avete notato Sta cosa Capiamo un attimo Sto fatto Mi sembra Di sì Perché vedi Lui preme Diventa giallo Il tasto Quando ha riempito Quasi al massimo Ok Quindi Scontro delle Aure Bellissimo Bello proprio da vedere E poi lui torna in posa Però devo capire E lo scontro qua finisce Voglio capire una cosa Ma Ci sono altre cose Qua nel gioco Queste 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 barre Cioè queste in alto Una Due E queste piccole Cosa sono Secondo voi Perché poi ragazzi Ho visto talmente di quelle cose Continuamente a schermo Che Cioè Non si riesce a capire C'è scritto anche Boost Durante lo scontro delle Aure Esatto Queste secondo voi Cosa Ma è la vita Ragazzi Sì è la vita Effettivamente è la vita Perché io pensavo Cioè Scusami Quante barre di vita Mi rimangono Ah ragazzi Sì come ho visto Le ho viste divise Mi ha Mi ha confuso un botto Perché pensavo fosse Un'unica Cioè Mi aspettavo per dire E brevemente Qua un'unica Barra lunga Invece qua hanno piato Come altri giochi di Dragon Ball Tipi precedenti Butto che ancora Quindi Qua ti dice Che c'è ancora Un'altra barra completa E diciamo che A primo impatto Non è chiarissimo Questa Questa situazione Per esempio Lo sta picchiando Io voglio capire Questi cosa sono Secondo voi Sto capendo eh ragazzi Ok Quindi quella è Proprio la vita ragazzi Come dicevate voi Sì Non ho capito Però Questi due Due e tre Ancora Non mi è chiaro Due e tre Ah ma questo ragazzi È come Budoketenkaichi Sapete che cos'è Mistun L'HUD È strano È minimale Molto diverso Questo due e tre Che sale Sono come Quando premi Cerchio Su O cerchio Giù E quindi qua Puoi fare il senso selvaggio Con questo Senso selvaggio Tutta quella roba là Capito Ti puoi potenziare Diventa la barra blu Completamente E poi esatto Se arrivi a uno Puoi trasformarti in Super Saiyan Se arrivi a due Diventi Super Saiyan Due Se arrivi a tre E così via Ragazzi io ti vedo Stunnato Ragazzi Stunnato Io sono Confusissimo Stunnatissimo Perché Quello che abbiamo visto Cioè Non riusciva a Ricollegare Per come era Minimale Il tutto A quello che era Di base Diciamo Come dire L'HUD Di Budokatenkaichi E questi invece Quindi sono i potenziamenti Che compaiono Normalmente Cosa vi meravigliate Di cose già viste Ma questo Ma Il bait Qui è Potente Ragazzi Ma ci sta Se voi non vi siete stupiti Alzo le mani Ci può stare Quindi Quando fai un figlio Ma non ci penso proprio Per il momento Quindi ragazzi Per me Quello che abbiamo visto oggi Per me Approvatissimo Quando si carica Tutta l'aura Cambia il tempo? Come cambia il tempo? La gente non sa apprezzare Ma infatti Ma perché non ti piace? Come non mi piace? Anzi Un botto Chiaramente L'impatto all'inizio È di un HUD Molto minimale È diverso Rispetto a quello Retro Dei Budokete Inkaichi Ma deve essere così Cioè ragazzi Lo devono rivoluzionare Un po' in qualche modo Non potevano fare La stessa cosa Una volta che capisci Che queste sono La stamina Come la vuoi chiamare Per fare Che ne so Il senso selvaggio Più sale Più ti puoi trasformare Questi suoi potenziamenti Per dire Questa è l'aura Questa è la vita Cioè È abbastanza chiaro All'inizio Solo che a primo impatto Mentre succede Tutto questo Ben di Dio A schermo Franz Capisce niente Lì per lì Però Ti devo dire la verità Vi devo dire la verità Ragazzi Per me ci siamo Per me ci siamo È quello che io mi aspetto È un gioco di Dragon Ball Ragazzi Occhio perché Cioè È un gioco di Dragon Ball Se volevate altro Vuol dire che non volevate Dragon Ball Perché Mi sembra palesemente Un gioco Di Dragon Ball Si presenta Molto molto Ma che cosa c'era Aspetta un attimo Questo è matto L'HUD Ragazzi È tutto È tutto quello Che c'è a schermo La vita La barra dell'aura Quella roba là Cosa c'è qua Sotto la F Che non capisco Cos'è? R2 Ah per dare il boost Pure? Bazzuto Guarda ma poi Si rompe lo spazio e il tempo Cioè loro due entrano In una gabbia Spazio temporale Bellissimo E poi cambia pure il tempo Il meteo Me l'avete fatto notare voi Bravissimi Bello bello E poi qua ti va nel dettaglio Con tutte quelle che sono le dinamiche Del trailer Cioè del gameplay E poi qua si va nel trailer Ragazzi il trailer si presenta Veramente alla grande Però il trailer è un po' più Easy Nel senso Mi ha gasato Ma il trailer È quello che noi ci aspettavamo Cioè Mi gaso perché mi piace Perché è fatto bene E tutto il resto Però In questo trailer Non sono Stupito Inteso Maronna mi E Gesù Che erano personaggi Che erano personaggi Che noi un po' Avevamo già visto Nelle immagini Però comunque sono gasato E mi sono divertito E mi è piaciuto Un botto Guarda Cioè ma guarda Dispo Ma che fa Guarda Dispo Guarda Dispo Bam 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 Destra e sinistra Così non si capisce niente Attacchi molto veloci Molto dinamici Ragazzi questo gioco Guarda che non sarà Una cazzata da giocare Pensate il competitivo Cioè a me sembra molto tecnico Comunque è andata Forma base a blu Che ci siano più varie Di ogni personaggio È probabile Mi sa di sì Mi sa di sì Esce prima sto gioco Tuo figlio Sicuramente sto gioco Ragazzi Di figli per ora Non ne parlo Mi dispiace Per ora no Quindi Quanto siete malati Ragazzi Per le proprie passioni C'è gente che fa Molto di peggio Ma no per le passioni Proprio nella vita in generale Noi Una volta che siamo qua Ci divertiamo Penso che Coltiviamo solo la nostra passione Non possiamo fare altro Che fare bene a noi stessi Mi dispiace per coloro Che non lo comprendono E mi dispiace In realtà può offrire Un certo punto Quindi eccolo qua È il bel topo Che non sappiamo Se avrà la forma Da Kai Shin Modalità storie Di sicuro ci sarà Dai Quando esce Non si sa Niente Come si chiama Niente Non ci sono Siamo per divariazioni particolari Purtroppo non è specificato Niente da questo punto di vista Un po' un peccato Ragazzi Io direi che oggi Abbiamo avuto Quello che Io ho avuto quello che io desideravo Quindi io sono Mi ritengo soddisfatto Mi ritengo Divertito E credo che abbiamo avuto Quello che ci meritavamo L'unica pecca Questa cosa bellissima Non so cosa sia L'unica pecca Purtroppo Inevitabilmente Devo dirlo qua È La mancanza Della data d'uscita A un certo punto Io non me l'aspettavo tanto Sincero Perché ve lo devo dire Però Devo essere Cioè vi devo dire Le cose come stanno Sono soddisfatto Mi sono divertito E soddisfatto Poi vi ho visti presissimi Siamo arrivati quasi a 5.000 spettatori C'è un record Come l'altra volta Di split screen Non si è parlato Purtroppo E quindi Ci sono ancora Tutti questi altri personaggi Da mostrare Ragazzi Grazie per essere stati oggi Qua con me in questa live Grazie A chi è stato con me A chi si è divertito A chi si è emozionato A chi si è appassionato A chi ha urlato con me Grazie per essere stati qua Grazie Anche a chi ha donato A chi mi ha supportato Grazie 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 Stiamo creando insieme Tante belle cose Una community pazzesca Spero di avervi divertito Di avervi intrattenuto Di esserci emozionati insieme Io mi sono emozionato un botto E E grazie di tutto Ovviamente aspettatevi Oggi pomeriggio Un video Se tutto va bene Con questa reaction Che abbiamo fatto adesso E poi Probabilmente domani Salvo imprevisti Avrete anche Un'analisi completa E dettagliata Di tutto Vedendo Non dico frame per frame Ma quasi Quindi ragazzi Grazie a tutti voi Io vi mando un bacione E alla prossima